Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti su Cue Incense in questo nuovo video dedicato alle acque profumate. Colgo subito l'occasione per dirvi grazie per tutto il sostegno e gli apprezzamenti che ho ricevuto da quando ho inaugurato il canale e anche se a causa dello studio sto registrando questo video ben prima di quando andrà in onda ci tengo davvero a ringraziare tutti coloro che con un mi piace un commento o con l'iscrizione al canale stanno contribuendo alla crescita di questo progetto e quindi grazie grazie di cuore davvero. Bene perché un video sulle acque profumate? Beh innanzitutto perché in estate quando la temperatura supera determinate soglie risulta molto piacevole vaporizzare dell'acqua sul corpo anziché spruzzare un profumo che con il caldo potrebbe risultare pesante e invadente. Poi perché la persistenza delle acque profumate essendo decisamente inferiore rispetto a quella dei profumi ci invoglia a ripassare spesso la fragranza e ad ogni vaporizzazione è davvero piacevole sentire queste micro goccioline di acqua che rinfrescano la pelle e donano una profumazione gradevole e leggera. Inoltre essendo contenute in flaconi di plastica e non di vetro anche il loro trasporto è facilitato. Personalmente in questo periodo io porto spesso in borsa con me un acqua spray. Quelle che vi mostro oggi sono le mie cinque acque corpo preferite in assoluto, quelle che ritengo più rinfrescanti e che consiglio anche per la loro profumazione veramente particolare. Cominciamo subito con le prime tre che appartengono al brand Buff & Body che qui a Milano da qualche anno ha letteralmente spopolato non solo per le sue acque profumate veramente particolari ma anche per i saponi, le candele, le profumazioni per ambienti che sono davvero golose di ottima qualità. Quelle che ho io non sono recentissime e ho notato quest'anno che i packaging sono leggermente cambiati. Normalmente si consiglia sempre di consumare i prodotti cosmetici comprese le acque profumate entro 4-5 mesi dal primo utilizzo. Tuttavia se le si conserva bene e soprattutto se c'è comunque una base seppur minima di alcol tendenzialmente è possibile mantenerle integre per molto molto più tempo. Purtroppo la scorsa estate avendo avuto poco spazio in valigia non ho potuto portare tutto ciò che avrei voluto con me in vacanza per cui ho scelto quella che fra le tre è tuttora la mia acqua preferita che come potete osservare è quella che in effetti ho consumato maggiormente. Si chiama At The Beach ed è un'acqua profumata piacevolmente persistente grazie come vi dicevo prima ad una piccola componente alcolica e che spregiona note di fiori di plumeria bianco, cocco tostato, acqua di bergamotto e muschio. È l'acqua profumata estiva per antonomasia che sa di fresco, di mare, di sole e in cui si sente tantissimo il piacevole dolce Roma del cocco e che io personalmente amo usare insieme al Dolce Garden di Dolce Gabbana di cui vi ho parlato nella mia rassegna sui profumi estivi 2021. Infatti quando uso il Dolce Garden che ha un delicato e piacevole accordo di note dove il cocco la fa da padrone, nelle ore successive soprattutto quando sono fuori tutta la giornata lo rinnovo con quest'acqua profumata, che fra i suoi ingredienti è anche l'aloe che contribuisce a nutrire la pelle e a mantenerla idratata, fresca e leggera. Quest'acqua in effetti si presta perfettamente per il layering con tutti quei profumi estivi che hanno note dolci di cocco, ma tra le mie sperimentazioni quella più riuscita è senza dubbio questa tra il Dolce Garden e At The Beach. Per intenderci il layering che significa stratificazione è una tecnica che consiste nel sovrapporre diverse fragranze in modo da crearne una completamente personale e unica nel suo genere. Ovviamente non bisognerebbe mischiare i profumi in maniera casuale anche per evitare di incorrere in risultati sgradevoli, pesanti magari. Tuttavia è anche vero che solo con l'esperienza e con la sperimentazione pian piano si riesce ad ottenere un buon layering. Quindi quello che vi consiglio se vi va di provare questa tecnica è innanzitutto di sovrapporre sempre una profumazione meno concentrata su una più concentrata, come in questo caso. Alla base ho scelto il Dolce Garden che è uno de parfum, mentre successivamente lo stratifico con questa meravigliosa acqua profumata. Come secondo consiglio vi direi di sovrapporre delle fragranze che hanno in comune delle note che emergono rispetto ad altre, come in questo caso in cui in entrambe si sente moltissimo la nota di cocco e che quindi si esaltano a vicenda. E il terzo consiglio è quello di sperimentare finché non trovate la giusta combinazione, quella che più vi rappresenta, che fa per voi e vi fa pensare ok, questo qui è il mio profumo. Dopo questa breve parentesi sul layering che se vorrete approfondirò nei prossimi video, le altre due acque profumate sempre di Buff & Body che vi propongo sono queste due. La prima, Japanese Cherry Blossom, è una profumazione delicatissima, veramente una delle più leggere e meno dolci della selezione di oggi. È un'impalpabile fragranza di fiori di ciliegio giapponesi, misti a per asiatica, petali freschi di mimosa, gelsumino bianco e legno di sandalo rosso. Diciamo che è una profumazione che non è per tutti, nel senso che non rientra tra le classiche acque super dolci e vanigliate che vanno per la maggiore e neanche fra quelle fresche agromate che generalmente si comprano di più in estate, per cui non ha sicuramente un aroma di tendenza. È più una fragranza adatta alle mezze stagioni, leggera, discreta e di un'eleganza molto molto composta. Ultima acqua profumata di questa azienda che vi propongo oggi è A Thousand Wishes, un dolce ed esuberante mix a base di prosecco rosa, melacotonia, frizzante, peogne di cristallo, ambra dorata e crema all'amaretto. Perfetta per quelle serate estive in cui si ha voglia di festeggiare, di ballare, di essere allegri. Cioè esattamente il tipo di serate che mi auguro tornino al più presto in questa surreale realtà che la pandemia da coronavirus ha creato. Questa è un'acqua davvero dolce, anche se non stucchevole, in cui si sente tantissimo la nota di melacotonia e questo la rende perfetta non solo per l'estate ma anche per l'autunno, anzi forse è proprio molto più autunnale come profumazione, anche se in realtà con l'arrivo del freddo a me non piace più tanto utilizzare le acque profumate, perlomeno non come le utilizzo nel periodo estivo. Le ultime due acque che vi mostro oggi fanno entrambe parte del brand Victoria's Secret e sono recentissime, infatti le ho acquistate entrambe il mese scorso approfittando del 2x1 e pagandole quindi una decina di euro l'una. In generale premetto che anche le altre acque profumate che ho acquistato tendo sempre a prenderle in offerta, poiché entrambi questi marchi non sono proprio economici e le acque profumate costano circa 19 euro l'una. Questa qui è la prima che quando ho provato le varie fragranze in negozio mi ha letteralmente conquistata. Il nome Pure Seduction Sunkissed è veramente azzeccato per quest'acqua profumata che ha note fiorite e fruttate, in particolare è a base di tiare e guava. Il tiare è il fiore della gardenia taitiana che appunto è il simbolo di Tahiti e che ha un profumo che davvero è qualcosa di sublime. I fiori di tiare sono piuttosto grandi, bianchi e appunto profumatissimi e di solito quando arriva la sera il fiore di tiare erige la sua corolla verso il cielo permeando l'aria di un profumo suave che è sì intenso ma nel contempo anche delicato e sicuramente inconfondibile. Quest'acqua si presta al layering con tutti quei profumi che sono alla base di fiori bianchi e con il giù il suo mimo in particolare crea un'accoppiata che è semplicemente magnifica. Molto bello è anche il packaging con questo gold rose che abbiamo qui nel tappo e che è ripreso anche nella parte superiore del flacone e che ha un effetto degradé che man mano che scende lascia trasparire il rosa aranciato dell'acqua profumata. Ultima acqua profumata di questa rassegna è un'altra novità del marchio Victoria's Secret che è stata lanciata sul mercato nel 2020 e fa parte di una limited edition. Tempting Peer Jasmine è una fragranza del gruppo floreale fruttato Gourmand in cui emergono e non solo dal nome essenzialmente due note. Una pera molto dolce e succosa e un gelsomino inebriante. La golosità e la freschezza al tempo stesso di quest'acqua sono qualcosa di veramente unico, una combinazione veramente perfetta e armoniosa che dà vita a una fragranza dolce, golosa ma diversa dalle solite profumazioni gourmand. Ha un DNA che è molto particolare. Io la sto usando veramente con piacere perché la trovo non banale e soprattutto abbastanza persistente. Questa la sovrappongo niente poco di meno che all'Antardi di Givenchy con cui condivide la nota di pera e di gelsomino. Ragazzi che dirvi cioè questo è un layering veramente perfetto. Anche questa come le altre presentate prima ha una piccola base alcolica che gioca a favore sia della persistenza che della longevità del prodotto. La collezione di cui fa parte è questa che vedete e che è composta da quattro acque dai profumi e dai colori molto ricercati ed elaborati e tutti veramente una più golosa dell'altra. Io le ho provate tutte in negozio ed è stato veramente difficile scegliere perché sono tutte buonissime a base di frutti prevalentemente dolci e succosi come fragole, pesca, prugna. Però poi il mio amore sconfinato per il gelsomino come sempre ha avuto la meglio e mi ha aiutato a scegliere. Quindi sono molto soddisfatta di questo prodotto che fra tutti quelli che vi ho mostrato vi consiglio di provare in assoluto insieme alla profumazione al cocco di At The Beach. Questi due sono in assoluto quelli che per quanto mi riguarda meritano il primo posto come acque profumate estive. Bene, carrellata terminata e spero che questo video un po' più lungo del solito vi sia piaciuto, vi abbia incuriosito. Se conoscete la tecnica del layering scrivetemi pure nei commenti come vi piace giocare con le profumazioni perché mi farebbe davvero piacere leggere le vostre opinioni e i vostri consigli. Non solo sul layering che poi qui ho trattato accennandolo appena perché in realtà con questa tecnica si possono fare delle cose strepitose ma mi piacerebbe sapere anche quello che pensate sulle acque profumate, quali amate di più, quali utilizzate soprattutto in estate. Vi mando un abbraccio grande e vi do appuntamento come sempre al prossimo venerdì per una nuova recensione profumata qui su Cue Incense.